don chisciotte della mancia sciogliesi il dubbio sull'elmo di mambrino e sulla bardella e si narra la singolare avventura degli sgherri di campagna e del mirabile coraggio del nostro don chisciotte qual è dunque disse il barbiere l'opinione delle signorie vostre intorno a questi galantuomini che vanno perfidiando che questo non sia un bacino ma un elmo a chi sostenesse il contrario disse don chisciotte direi a tutte prove che come cavaliere mente e come scudiere mille volte mente per la gola e arci mente allora il nostro barbiere maestro nicola conoscendo a fondo l'umore di don chisciotte volle maggiormente incitarlo e rendere più clamorosa la burla perché tutti ne facessero gran risate e perciò voltosi all'altro barbiere gli disse signor barbiere o chiunque voi siate sia vi noto che io esercito la vostra medesima professione che corrono da oltre venti anni da che mi sono matricolato e che conosco uno per uno gli strumenti tutti della barbieria oltre a ciò fui soldato nella mia prima età e so molto bene che cosa sia elmo morione celata con buffa ed ogni altro arnese della milizia e intendo di sapere dar conto dei diversi generi di armature e di armi e dico salvo però un migliore parere e rimettendomi sempre al più sano giudizio che questo mobile ora tenuto da cotesto buon signore non solo non è bacino da barbiere ma tanto è lontano dall'esserlo quanto il bianco dal nero e dalla verità la menzogna sostengo però che quantunque questo sia un elmo non è un elmo intiero e così è per l'appunto disse Don Chisciotte perché gli manca la metà che è il mento e così è soggiunse il curato indovinando già le intenzioni del suo amico barbiere lo stesso affermarono Cardenio, Don Ferdinando, i compagni suoi ed anche il giudice se non avesse avuto l'animo volto a più gravi pensieri per l'affare di Don Luigi avrebbe gli pure aiutato a dar colore alla beffa ma trovavasi si concentrato in se stesso che poco o nulla infatto vi prende a parte Dio m'aiuti! disse a tal punto il corbellato barbiere come è dunque possibile che genti fornite di onore sostengono che questo non sia un bacino ma un elmo questa è cosa che farebbe impazzire un'intera università comunque fosse sapiente orbene se questo bacino è un elmo per la stessa ragione anche questa bardella sarà una sella da cavallo come ha detto questo signore a me sembra bardella disse Don Quisciotte ma ho già dichiarato che non voglio pronunziare giudizio sopra di ciò eppure soggiunse Don Fernando non va che il signor Don Quisciotte che possa decidere e ognuno di noi si sottomette a lui in affari di cavalleria io vi giuro signori disse Don Quisciotte che tali e tante e si strane cose mi sono avvenute in questo castello nelle due volte che vi ho alloggiato che non mi permetto di rispondere risolutamente sopra quanto qui avviene persuaso che qui sempre abbia luogo qualche incantesimo la prima volta mi ha dato molto da fare un moro incantato che vi soggiornava e la passò assai male anche sancio mio fedele seguace in questa notte medesima poi rimasi appiccato quasi due ore per questo braccio senza saper come o perché mi incogliesse tanta sventura e però sarebbe a parer mio troppo rischioso ogni giudizio ho pronunziato in mezzo a sì grande confusione di cose ho già fatto risposta intorno al dubbio se questo sia un bacino o un elmo ma non oso definire se quest'altro sia bardella o fornimento da cavallo e rimetto la decisione al saggio parere delle signorie vostre che forse per non essere ascritte alla cavalleria errante come io lo sono non avranno forza contro le loro persone gli incantamenti che predominano nel castello e potranno giudicare delle cose come sono realmente e non già come a me appariscono non si può negare replicò Don Fernando che il signor Don Quixote non abbia parlato con molta saviezza rimettendo in noi la decisione di questo caso e affinché ciò proceda con la dovuta regolarità io raccoglierò segretamente il voto di tutti questi signori e darò poi chiara e piena notizia di quanto giudicheranno tutto ciò dava da ridere a quelli che conoscevano l'umore di Don Quixote ma chi non ne era informato sembrava che tutto fosse una vera pazzia ed erano specialmente di questo avviso Don Luigi e quattro suoi servitori non meno che gli altri tre passeggeri giunti per caso a quell'osteria e che avevano cera da sgherri di campagna come erano di fatto quelli che più d'ogni altro ne trasecolava era il nuovo barbiere il quale vedeva dinnanzi ai suoi occhi trasformato il suo bacino nell'elmo di mambrino e pensava che in ricchi fornimenti da cavallo avesse poi a cambiarsi anche la sua bardella tutti facevano grande schiamazzo nel vedere in qual modo si andavano da Don Fernando raccogliendo le voci dall'uno e dall'altro parlando loro all'orecchio affinché dichiarassero se fosse bardella o fornimento da cavallo quella gioia che aveva occasionata una sì tumultuosa discussione raccolti da lui i voti di coloro che conoscevano Don Quixote disse ad alta voce il fatto sta mio galantuomo che io sono annoiato di raccogliere tanti pareri mentre ad ogni dimanda che io faccio mi si risponde essere uno sproposito l'asserire che questa sia bardella di giumento piuttosto che fornimento da cavallo e di cavallo di razza e però dovete avere pazienza perché a dispetto di voi e del vostro asino questo è fornimento da cavallo e non è bardella e voi per parte vostra adduceste prove assai deboli a sostegno della vostra opinione Dio non mi faccia salvo disse il barbiere se tutte le signorie vostre riveritissime non si ingannano e così comparisca l'anima mia al tribunale di Dio come questa è bardella e non fornimento da cavallo ma così vanno le leggi come e non dico di più né sono già briaco ma digiuno ancora seppur non mi avviene pe miei peccati non muovevano meno alle risa l'insistenza del barbiere che gli spropositi di Don Quisciotte il quale disse a tal punto altro non resta da fare se non che ognuno si prenda a ciò che è il suo e a chi Dio la data San Pietro la benedica uno dei quattro servitori di Don Luigi soggiunse a meno che questa non sia burla già ordita e non mi darò a credere mai che uomini di sirretto discernimento come sembrano essere quelli che qui si trovano abbiano cuore di sostenere che questo non è bacino e quella non è bardella ma poiché leggo che si ostinano in affermarlo mi persuado che sotto ci covi qualche arcano perché al corpo di e fu quasi per bestegnare non vi sarà al mondo chi mi dia di intendere che questo non sia bacino da barbiere e questa non sia bardella da asino potrebbe anche darsi disse il curato che fosse da asina tanto fa il servitore soggiunse che in questo non istale senza del fatto ma si bene che sia o no bardella come le signorie vostre sostengono udendo questo uno degli sgherri di campagna che era allora entrato ed avea inteso il tenore della controversia pieno di rabbia di stizza perché venuta eragli la noia si fece a dire tanto è questa bardella quanto mio padre e chi dice o ha detto diversamente deve essere ebriaco menti come villano infame rispose don chisciotte ed alzando il lancione che non si lasciava mai uscire di mano gli misurò un colpo si giusto sopra la testa che se lo sgherro non se ne fosse schermito sarebbe morto disteso il lancione dando in terra si ruppe in pezzi e gli altri sgherri che videro maltrattare il loro compagno levaron la voce domandando che tutti dessero mano alla santa ermandada l'oste che era pure della consorteria si affrettò a dar di piglio all'archivugio e alla spada e si pose dal lato dei suoi compagni i servitori di don luigi tolsero in mezzo il loro padrone perché intanto scompiglio non gli scappasse il barbiere vedendo che la casa era sossopra afferrò la sua bardella e sancio fece il medesimo don chisciotte impugnata la spada attaccò allora la sbirraglia don luigi intimava i suoi servi che lo lasciassero che voleva correre alla difesa di don chisciotte cardenio e fernando si erano uniti per sostenerlo nella zuffa il curato strillava strillava lo stessa sua figlia affliggevasi ma ritorna piangeva dorotea era confusa lucinda era tonita donna chiara sbigottita il barbiere bastonava sancio e questi dava al barbiere un perfetto ricambio don luigi colpì con un pugno si forte uno dei suoi servidori che gli fece uscire il sangue di bocca perché aveva ardito pigliarlo per un braccio affinché non fuggisse il giudice lo difendeva don fernando calcava coi piedi uno sgherro e calpestavalo alla peggio l'oste tornava a rinforzare le grida domandando che fosse aiutata la santa ermandada tutto era confusione nell'osteria né altro vi dominava che pianti strida schiamazzi rimescolamenti paure disgrazie coltellate sorgozzoni bastonate calci e spargimenti di sangue in mezzo a questo caos ed a questa confusione di tante cose don chisciotte si risolvenne della discordia universale seguita nel campo diagramante e quindi si fece a dire con un tuono di voce per cui ne rimbombò l'osteria tutta ognuno si fermi si rimettano tutte le spade nel fodero tutti si acchetino e mi ascoltino tutti quanti hanno cara la propria vita a questa voce terribile tutti arrestaronsi ed egli proseguì a dire non vel dissi io già o miei signori che questo castello è incantato e che senza dubbio qualche legione di demoni vi fa soggiorno bramo che vediate coi vostri propri occhi in prova del mio detto com'è venuta e trapiantata tra noi la discordia che un tempo sconvolse il campo di egramante osservate o signori in qual modo qua si combatte per lo brando là per lo cavallo colà per l'aquila costa per l'elmo e tutti pugniamo e nessuno sa quello che si faccia orsù vengano le signorie vostre signor giudice e signor curato faccia l'uno la parte del re aggramante e l'altro quella del re sobrino e attengano di rappacificarci perché viva dio eppure una grande ribalderia che tanta gente di si alta portata come noi siamo si ammazzino per cause tanto frivole gli sgherri che non capivano le frasi di don chisciotte e si trovavano malconci da don fernando da cardenio e dai compagni loro non voleano darsi pace il barbiere avrebbe voluto finirla perché nella zuffa si era guasta tutta la barba e la bardella sancio come leal servitore obbedì alla voce del suo padrone si accetarono pure i quattro servi di don luigi vedendo che loro tornava conto di così fare e l'oste solo andava sussurrando che dovessero castigarsi le insolenze di quel matto il quale ad ogni tanto metteva in scompiglio tutta la sua osteria finalmente lo strepito cessò la bardella restò per sella da cavallo sino al giorno del giudizio il bacino per elmo e l'osteria per castello nella immaginazione di don chisciotte rimessa la tranquillità degli animi e fattisi tutti amici a persuasione del curato e del giudice tornarono i servi di don luigi ad insistere che se ne andasse con loro frattanto il giudice si consigliò col curato con don fernando e con cardenio intorno al partito che dovesse prendere nella sua difficile circostanza informandoli di quanto era passato fra lui e don luigi infine accordaronsi nel dire che don fernando si facesse conoscere dai servi di don luigi e loro significasse di avere deciso che il giovane si recasse con lui nell'andalosia dove avrebbe trovato presso il marchese suo fratello quell'accoglienza che dovuta era al suo merito ed alla sua condizione poiché si vedeva il giovinetto disposto a lasciarsi mettere in pezzi piuttosto che tornarsene in quel modo e in quell'abito in casa del padre riconosciuta la nobiltà di don fernando dai quattro servi ed intesa la volontà di don luigi stabilirono che tre di loro portassero a suo padre la nuova dell'avvenuto e che restasse l'altro al servizio senza mai allontanarsene fino a tanto che venissero altre disposizioni rispetto a lui a questo modo si assoppì quell'incendio per l'autorità del re agramante e per la prudenza del re sobrino ma vedendosi il nemico della concordia e l'odiatore della pace sprezzato e deriso e che poco frutto acquistato avesse nel porre tutti in si confuso laberinto imprese di tentare altri scompigli suscitando di bel nuovo questioni e inquietudini si acchietarono gli sgherri per avere conosciuto la qualità delle persone con le quali erano venuti a contesa e si ritirarono dalla zuffa immaginando benissimo che qualunque fosse stato il successo ne andavano eglino a perdere uno di costoro peraltro e fu quello macinato e pesto da don Fernando si risolvenne che fra gli ordini che seco recava uno ne aveva per don Chisciotte contro cui il tribunale avea decretato l'arresto per la libertà che gli avea data ai galeotti disgrazia già preveduta da Sancio con questo pensiero volle lo sgherro rendersi prima certo se i contrassegni rispondevano alla figura di don Chisciotte e tratta fuori una pergamena trovò tutto quello che gli andava cercando misesi a leggere ad agio come in esperto lettore e ad ogni parola guardava don Chisciotte confrontando i segni del mandato con lui stesso e accertatosi che egli era veramente quel d'esso tenendo tuttora nella sinistra l'ordine dell'arresto con la dritta pigliò don Chisciotte per collare sì fortemente che non poteva nemmeno tirare il fiato e gridò date mano la santa ermandada e perché si conosca la ragionevolezza del fatto si legga quest'ordine e si legga che contiene la commissione di legare questo assassino da strada il curato lesse l'ordine e vide servero quanto lo sgherro asseriva ma il cavaliere errante vedendosi maltrattato a sì crudel modo da quel villano malandrino raccolse quante forze potè mai avere strinse con ambe le mani lo sgherro per la gola sì fortemente che avrebbe perduta la vita s'altri non accorreva in suo aiuto l'oste che doveva per necessità unirsi al partito della sbirraglia accorse ad aiutarla lo stessa che vide il marito involto in una zuffa tornò a gridare e così fece maritorna e la figliuola chiedendo mercede al cielo e dagli astanti sancio vedendo quello che accadeva disse viva dio che è vero quanto si va dicendo dal mio padrone circa gli incantesimi di questo castello non essendo possibile di vivervi un'ora sola inquiete don fernando allontanò lo sgherro da don chisciotte e con piacere di entrambi svitichiò loro le mani con le quali si erano così fieramente abbrancati adonta di tutto ciò insisteva la sbirraglia a voler prigione il colpevole e lo domandarono ad alta voce così esigendo il servigio del re e della giustizia contro quel ladro ed assassino di strada don chisciotte si mise a rider nel sentirsi così chiamare e con molta gravità disse loro ascoltate gentaglia vile e malnata chiamate voi dunque a saltare alla strada il donare la libertà a uomini incatenati il lasciare andare i prigioni il soccorrere i miserabili il rizzare i caduti il dare aiuto ai bisognosi oh gente infame degna per lo basso e vile vostro intendimento che il cielo non vi renda mai capaci di conoscere il valore che in sé racchiude l'errante cavalleria ne vi faccia mai aprire gli occhi sull'errore e sull'ignoranza in cui siete mancando del rispetto che pur dovreste alla presenza anzi pure all'ombra di qualsivoglia cavaliere errante ditemi ladroni in quadriglia e non già sgherri ma assassini da strada con permissione del tribunale ditemi chi fu quell'ignorante che sottoscrisse l'ordine di arresto contro un cavaliere della mia portata e non seppe che cavaliere erranti vanno esenti da ogni procedura giudiziale e che la loro legge e la spada il tribunale e il loro ardimento e le prammatiche del foro la loro volontà che fu il mentecatto ripeto cui non sia noto che nessuna nobiltà di cittadino è fornita di tante preminenze ed esenzioni quanto ne gode quella acquistata da ogni cavaliere errante nel giorno in cui si arma cavaliere e si dedica al duro esercizio della cavalleria quando mai infatti è avvenuto che un cavaliere errante pagasse dazio gabella tassa porto o tragitto o polizza al sarto o scotto al padrone del castello dove gli alloggiasse qual re si rifiutò mai di averlo seco alla mensa quale si è quella donzella che non sia si affezionata a lui e finalmente qual cavaliere errante fu e o sarà mai al mondo cui manchi l'animo per dare gli solo quattrocento bastonate a quattrocento sgherri cui saltasse in capo di offenderlo tali cose dicea don chisciotte e il curato frattanto attendeva a persuadere la sbirraglia che gli era un vero pazzo di che ne erano prove le opere le parole e che in conseguenza desistessero dall'impresa perché seppure lo avessero arrestato bisognava poi rimetterlo in libertà a titolo di pazia ma colui che teneva l'ordine dell'arresto rispose che non erano egli noi giudici competenti della pazia di don chisciotte e che era suo preciso dovere di eseguire i comandi dei superiori arrestandolo salvo poi a chi spetta di rimetterlo in libertà va bene tutto questo rispose il curato ma ora non dovete arrestare né si lascerà egli prendere per quanto lo creda in sostanza tanto seppe dire il curato e tante pazzie fece don chisciotte che sarebbero stati più di lui pazzi gli sgherri a non valutare le sue follie in conseguenza credettero miglior consiglio di rappacificarsi con lui e di farsi e ziandio mediatori della pace fra il barbiere e sancio pancia che stavano tuttavia in accanita baruffa gli sgherri dunque come membri della giustizia composero la lite all'amichevole per modo che ognuna delle parti ne rimase se non contenta soddisfatta in parte almeno ordinando che si cambiassero le bardelle e non le cinghie né le cavezze quanto poi all'elmo di mambrino il curato sotto mano e senza che don chisciotte se ne avvedesse diede al barbiere otto reali e nebbe la ricevuta con le solite dichiarazioni a reciproca ed eterna cauzione posto fine in tal modo a queste risse che erano le più importanti e principali restava che i servitori di don luigi si persuadessero di partire in tre restando il quarto in compagnia di don fernando dovunque gli fosse piaciuto di condurlo ma la fortuna che avea cominciato a volger propizia si mostrò a tal punto molto benigna perché aderirono i servitori a tutto ciò che bramava don luigi di che nebbe donna chiara si gran giubilo che le traspariva dal volto in modo da essere conosciuto da ognuno Zoraida tutto che non comprendesse ancora bene gli avvenimenti si rattristava e si rallegrava secondo gli indizi degli altri sembianti e soprattutto quello del suo spagnuolo dal quale non distaccava mai gli occhi perché lo teneva fitto nel cuore l'oste che aveva notata molto la ricompensa data dal curato al barbiere domandò il pagamento della sua polizza per l'alloggio di don chisciotte e per la rottura degli otri in un colla perdita del vino giurando che ronzinante non sarebbe uscito dall'osteria e neppure l'asino di sancio se prima non fosse egli restato soddisfatto interamente di ogni suo avere il curato trovò ripiego ad ogni cosa e don Fernando pagò l'oste benché anche il giudice si fosse di buon volere a ciò offerto a questo modo tutti restarono in pace e così d'accordo che non pareva più che in quell'osteria avesse signoreggiato la discordia che sovvertì il campo del re agramante com'era si cacciato in testa don chisciotte ma si bene la pace la quiete che regnò ai tempi di Ottaviano Augusto di tutto il successo fu universale opinione che si dovesse ringraziare il buon animo e la molta eloquenza del curato non meno che la liberalità incomparabile di don Fernando